Oggi per pranzo siamo alla NET DINNER, locale anni 50. Saluta! Andiamo? Ciao, siamo a Disneyland Paris ed ecco il nostro primo Muota It in a Day con brufolo, quindi dòci a proteggere molto bene la tosta. Vediamo cosa prendiamo? Allora, il mio primo giorno a Disneyland è con un onion burger, cipollazza, burger, patatine, mentre il mio marito un mega burger, però c'è l'insalata, quindi sarà leggero. È light, tu dici? Sì, sì. Vabbè ragazzi, questo è uno sfondamento di What I Eat in a Day. Buon pranzo a tutti, noi ci godiamo il nostro pranzo di anniversario. Ciao, ciao! È il dolcino, il dolcino milkshake naturalmente a NET STYLE, mentre il mio bimbo, lui, si fa fuori un brownie con la panna. E quella mano di chi è? Ah, ladruncolo! Buon danno! buon danno! E a merenda un frappuccino da Starbucks, non me lo toglie nessuno! Notare il mio nome? Ambetta! Mi chiamo Ambetta per i francesi! Ombretta proprio no! Però il frappuccino è buono e me lo prendo anche se sono Ambetta! Buona merenda! Oggi ci siamo fatti un Darth Vader menu, costituito da panino Darth Vader con dentro qualcosa di arancione, qualcosa di rosso, dicono che siano pomodori, formaggio e hamburger, pane nero, credo da colorante, non da nulla di salubre, patatine, e poi cosa c'è? Questo è quello di Enzo, e poi ci sono i cupcake di Yoda. E basta! E ora mangiamo che c'è tanta fame dopo tanta fila! Un bacio! Ciao! Ciao! Buon danno! Ciao! Non stavo per dimenticare il What I Eat In A Day di oggi, in un posto meraviglioso, guardate, il ristorante di Ratatouille. Si quelli sono piatti, si quelli sono tappi, si tutto c'è meraviglioso. E allora saluta! Oggi abbiamo preso una tagliata di mando con patatine, salsina dannificissima che non mangerò e caponatina che non mangerò perché non voglio esagerare, anche in vacanza uno si deve dare un tono. Comunque adesso vado a mangiare ragazzi la mia tagliata ben cotta io. Bene, buon pranzo a tutti! Allora, io non ho preso dolce, ma vi faccio vedere quello del menù per bambini di Enzo, che è un eclair, come un vignè, era con la scritta Rémy ed è al cioccolato e dentro a nocciola. Gabriellino invece, amoruccio, si è preso il tiramisu, acqua, rigorosamente vitel. Tiramisu pre, lui è già pronto al posto di combattimento. Date un bacino a Rémy e ora ce lo spazzoliamo. Buon dolcino! La mia merenda a Disneyland è quasi sempre questo, il barba papà. Ti sapete cos'è? Lo zucchero filato! E' buonissimo! Zucchero filato in barattolo. Apoteosi. E tu che mangi? Un croissant! Ecco, goloso! Au revoir! E la sua merenda è un panno cioccolato e Woody dorme. Ciao! Che carini noi che merendiamo così! Ciao ciao! Siamo al Miki Caffè e noi prenderemo, credo, quanti pasto fantasie di sugli, io l'hamburger all'italiana, mentre Gabriele penso che voglia il branzino, mentre come dolci prenderò, sono indecisa, prenderò e la coppa dolce vita, lo scopriamo insieme. Il menù bambini invece è questo. Prenderò la vellutata, il cheeseburger, e la mousse al cioccolato bianco, al latte. Vediamo com'è. Ecco il mio hamburger di stasera, all'italiana, qua lo chiamano così. Quando le cose sono più belle, fuori dall'Italia è tutta all'italiana. Allora, questo è così, patatine, questo è quello di Enzo Mini e una cosa bellissima sono i tubetti di maionese e ketchup a forma di colori. Parliamone, li voglio tutti. Sono fantastici. Gabriele stasera è stato parco, ha preso il branzino, il branzino, io faccio questa tamonella, ma tanto poi Gabriele si mangia la metà del mio hamburger. E adesso, buona cena. Ciao. Cino, dolcino, profiterol con crema di vaniglia, panna e salsina al cioccolato. Era la mia, anche lui ha la stessa cosa. Enzino invece ha una mousse al cioccolato e al latte. Buono, è un peccato mangiarlo, ma dovremmo farlo. Qualcuno dovrebbe pur farlo questo sporco lavoro, giusto? Vado a compiere la missione. Ciao. Oggi What is eating a day d'atmosfera. Siamo al ristorante Blue Legon e abbiamo preso dei gamberetti Blue Legon, non so con che cosa, non chiedetemelo, ma è solo così? Con il frutto della passione, una salsina appassionata, un attimo, insalatina tartar, gamberetto, panoramica dell'uovo. In pratica questo ristorante è dentro al gioco Pirati dei Caraibi, che è stupendo, tra l'altro come gioco molto coreografico. E lì c'è il Pirata dei Caraibi. No, 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 no. Bene, noi pranziamo. Questo è l'antipasto. Ci vediamo per il piatto principale. Ciao. E il piatto principale sono i gamberi con una salsina particolare, riso aromatizzato al curry e qualcos'altro. E non ricordo altro, è un'insalata di peperoni e salsino. E questo è un oggetto non identificato che non so cosa sia, comunque io mi concentrerò su di loro. Gabriele ha il piatto con il mio, sorriso. Enzino ha i ravioli di gamberi e astice, una roba del genere. Vediamo se li mangerà in questo momento. Vi faccio vedere le condizioni di Enzo. Dorme, 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 si è addormentato. Bene, buon pranzo. Abbiamo preso il dolce. Allora, noi abbiamo preso una sorta di millefoglie cioccolata e caffè con platano fritto, alkekenji e il cioccolato. E Enzino ha preso la creme brulee. Ah, brulee brulee. Eh? Beh, aspettiamo che si spenga la fiamma del gusto e concludiamo il nostro prezzetto. Ciao. Ed ecco il nostro... E finisce qua un altro What I Eat In A Day. Grazie a tutti. Grazie a tutti.